Buongiorno a tutti, oggi è il mio giorno, nel senso che è il giorno dedicato a me per sostenere la Lega, se vorrete farlo vi alleggo l'indirizzo, qualunque erogazione liberale del 3.026%, se vorrete farlo, qualunque importo, in ogni caso grazie, grazie che mi seguite, grazie che siete sui miei social, però se ritenete che io sia una delle vostre deputate preferite, se siete interessati anche a questi premi simbolici che faccio, cioè quello che contribuirà o quella che contribuirà di più verrà con me in una redazione televisiva, il secondo farà un giro con me in Parlamento e la terza e il terzo potranno mettere sui miei social un messaggio a loro descrizione, ecco se siete interessati a questo, se volete sostenerci, se credete nelle nostre battaglie, oggi questo è l'indirizzo in cui potete contribuire, grazie.